Dopo aver conseguito il diploma di maturità presso l'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Iglesi, la brillante studentessa Caterina Amichetti ha scelto il corso di laurea Unicam in chimica e tecnologia farmaceutica ed ha anche ottenuto l'ammissione al percorso di eccellenza della Scuola di Studi Superiori Carlo Urbani. Caterina aveva già dimostrato la sua qualità ed il suo valore lo scorso anno quando ha realizzato un progetto per il concorso nazionale I giovani e le scienze che è stato selezionato e che avrà l'opportunità di presentare a Dubai nel prossimo mese di febbraio. Io e il mio gruppo di studi ci siamo interessati sulle strutture proteiche della farina e la forza della farina stessa. L'idea nasce durante il lockdown, il primo lockdown durante il quale abbiamo tutti quanti riscoperto il mondo della panificazione e abbiamo imparato, io prima di tutti, la differenza tra una farina forte utilizzata per lievitati come il pane e una farina debole utilizzata invece per prodotti come i dolci ad esempio e ci siamo incuriositi ipotizzando e abbiamo ipotizzato una correlazione tra la forza di una farina e la struttura proteica del glutine all'interno di questa. Purtroppo però durante il corso dei nostri studi abbiamo scoperto che la correlazione che avevamo ipotizzato non esiste o perlomeno noi non l'abbiamo trovata, magari in futuro verrà riscontrata, ma noi ne abbiamo trovato un'altra, una correlazione tra la struttura proteica del glutine all'interno della farina e l'origine della farina stessa, essenzialmente il grano dalla quale questa deriva. Scoprendo che questa correlazione è particolarmente consistente quando la farina proviene da un grano di tipo antico oppure da un grano di tipo più moderno. Quindi questa ricerca potrebbe essere la base per riuscire a trovare un nuovo modo di classificare le farine e verificare eventuali adulterazioni nelle farine. Dunque avendo a disposizione solo il pacco di farina potremmo verificare che questo proviene effettivamente da un grano di tipo antico moderno in base a quello che è scritto nell'etichetta. Questo progetto ci avrebbe dovuto portare in Brasile in qualità di uno dei 16 gruppi vincitori del concorso i giovani e le scienze organizzato dalla FAS, purtroppo però per motivazioni legate al Covid non siamo potuti partire. Adesso però avremo l'opportunità di portare il nostro progetto all'Expo di Dubai a febbraio tra il 19 e il 25 febbraio, quindi comunque sarà una grande e bellissima opportunità.